Buongiorno amici, come state? Io sono Clara in the Mirror, bentornati in Meglio di Niente, il podcast che parla di relazioni che potete trovare sia qui su YouTube che su Spotify. Oggi parliamo di tempo, o meglio, della relazione che abbiamo con il concetto di tempo. Prima però volevo anche consigliarti la mia newsletter che puoi trovare gratuitamente inserendo la tua email nel link che trovi nell'info box. Puoi disiscriverti quando vuoi, è assolutamente gratuita e mi farebbe un grandissimo piacere se volessi almeno dargli una possibilità. Magari darle, ma non rifarò questa frase. Buongiorno, quindi bentornati, bentornati in una nuova puntata. Sta procedendo alla grande questo podcast, sono molto contenta di me stessa e anche della piega che sta prendendo. Ho ricevuto dei messaggi da parte vostra dove mi dicevate che in alcuni argomenti vi siete ritrovati nei miei pensieri e questo mi fa un grande piacere, soprattutto nel video delle delusioni. Probabilmente molti di noi siamo molto più sensibili di quanto ci piace far credere agli altri. Oggi parliamo di tempo, un argomento che, devo ammettere, mi spaventa, ma trovo anche molto affascinante e degno di essere raccontato qui in questa puntata. Il mio concetto personale di tempo è che io mi sento costantemente in ritardo. Fin da quando ero bambina, anzi no, se devo veramente visualizzare un momento preciso in cui il mio tempo di vita ha ricevuto un cambiamento, un volta pagina, un nuovo capitolo è stato nel 2009. Ero in America, ero andata a studiare là con la mia classe del liceo ed è stato un anno di fortissimi cambiamenti ed è incredibile. Anche l'unico anno che mi ricordo. Giuro, io non mi ricordo nessun altro anno o cos'è successo in nessun altro anno di preciso. Forse solo il 2019 è un altro anno che ricordo particolarmente, forse perché anche quello è stato caratterizzato da un forte cambiamento nella mia vita, ma in assoluto il 2009 è stato un anno incredibile. Non esattamente positivo, bellissimo da ricordare, perfetto. È stato un anno in cui io sono cambiata. Mi ricordo esattamente un'immagine ferma nella mia mente dove io ero a Times Square, a New York, e proprio in quell'esatto momento per un certo punto si sono spente tutte le luci, tutte le luci di Times Square. Quindi immaginatevi io cosa posso aver pensato. Sicuramente ad un attentato, anche perché io ho vissuto le torri gemelle. Questa è una cosa incredibile che mi fa rendere conto di quanto il tempo passa in fretta. Quando io sono andata nel 2009, questa è una parentesi che vi faccio, ma stavano costruendo il Ground Zero, dove poi sarebbe stato costruito il museo delle torri gemelle. Ecco, lo stavano costruendo quando ci sono andata io. Sono tornata nel 2019 e ho potuto vederlo. Non ci sono entrata perché non ho avuto il coraggio. Non lo so, non riesco ad affrontarlo. Sono una persona fortemente empatica e quando ero andata ad Amsterdam mi era bastato fare il giro nella casa di Anna Frank, per dirmi, o anche quello dei campi di concentramento. È necessario chiaramente conoscere queste cose, studiarle, capirle, ricordarle sempre, ma viverle tramite un museo. Ecco, io che l'avevo vissuto direttamente in quei momenti, non ero ancora pronta ad affrontarli. Nel 2009 si sono spende tutte le luci, io ho ricondotto le emozioni a un attentato, quindi ovviamente negative. In realtà poi era qualcosa di brutto perché era morto Michael Jackson. Ricordo che ero stata male anche io, ma il fatto che, non lo so, avevo percepito un'atmosfera americana che mi aveva sconvolto. Cioè, c'era la gente in lacrime, le persone erano distrutte, erano lì che piangevano, disperate. Niente, quello probabilmente si è fissato nella mia mente e ha fatto in modo che io mi ricordassi quell'anno lì. Quando qualcuno mi chiede cosa ne penso del tempo, io sono sempre impanicata. Sono costantemente con la convinzione di aver perso tempo, perché appunto nella mia vita non mi sono mai resa conto dello scorrere delle lancette. Vorrei capire il perché, ma sinceramente non lo so. Non mi sono mai posta l'urgenza del tempo, di arrivare in un determinato punto, in un determinato momento. Ma è come se ad un certo punto, in pandemia, mi si fosse accesa una lampadina e io, ma ve lo giuro, una mattina mi sono svegliata e mi sono guardata allo specchio e ho detto, ma io cosa sto facendo? È come se in quel momento avessi deciso di fermare tutto, fermare la macchina, tirare il freno a mano, scendere e dire, ma raga, ma io non sto andando in questa direzione. Ti rendi conto di tutto il tempo che è passato, di tutte le opportunità che hai buttato via per realizzare quello che avresti voluto? La seconda domanda che poi mi facevo era, ma Clara, cos'è che vorresti? Io ancora ad oggi non vi so rispondere. Questa è una delle cose che più mi rimprovero. Io non lo so, io non lo so, perché il mio pensiero di dire scelgo una cosa con tutte quelle che abbiamo a disposizione mi mette in crisi, mi mette in una profonda crisi e non mi dà modo di fare una scelta consapevole, di fare una scelta che arriva da un punto A a un punto B e che quindi comprende una strada che tutti dobbiamo percorrere per arrivare al nostro obiettivo. Nulla cade dal cielo, nulla ci viene regalato, a parte in qualche caso, ma non è il nostro. Nulla ci viene dato così a gratis. Dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci per ottenere dei risultati. Secondo me la cosa che più mi ha insegnato questa pazienza che non ho mai avuto è stata la palestra. Andare in palestra, praticare attività fisica, se inizialmente l'avevo iniziata per perdere peso perché comunque non ero una persona sana, avevo un'alimentazione regolata, non mi preoccupavo di me stessa. L'ho iniziata quindi per una necessità, dovevo perdere peso e sentirmi un pochino più in forma. Dopodiché è diventata una vera e propria fonte di insegnamento perché mi ha insegnato ad aspettare, a credere, a continuare, a non mollare, soprattutto credi nei risultati. Il tempo è anche un fattore forse che mi spaventa molto proprio perché i miei genitori hanno un'età veramente distante dalla mia. Mi hanno avuto molto tardi e questo ha fatto in modo che ad oggi, quando io appunto sono sui 30 anni, loro non sono vecchi perché sono delle persone attive, sono delle persone che si interessano a quello che faccio, a credono in me, si interessano alle cose nuove, ma sono persone che appartengono ad un'epoca diversa. Perciò quando io ho dovuto scegliere la mia vita, il mio percorso e magari fare dei pensieri fuori dal comune, come ad esempio credere che si potesse fare un lavoro online, quando ancora qualche anno fa un lavoro online non esisteva, comunque c'era ancora questa concezione che lavorare online fosse un'utopia. Ecco, loro magari non mi hanno aiutato nella maniera corretta e quindi ho avuto ancora più paura. Ho sempre nascosto i miei desideri, i miei sogni sotto la sabbia, senza mai rendermi conto in realtà di avere le possibilità magari di portarli a termine. Non nel senso tanto di avere le qualità, ma di avere una grande passione che è proprio la chiave per qualsiasi risultato. Ad oggi non so dirvi se avessi avuto la possibilità o se potessi tornare indietro a fare le cose in modo diverso. Quello che vi posso dire è rendervi sempre conto che l'unica cosa che conta è quella che state vivendo in questo esatto momento. Visualizzate la vostra strada. Questo è un mio consiglio, voi siete liberi di fare quello che volete. Visualizzate la vostra strada, il vostro percorso, che non è uno, non è un risultato. Sono più risultati che devono essere voi stessi, devono rappresentare voi stessi. Questa è la chiave per proseguire nel cammino, non perdervi dietro delle idee, delle congetture che non vi appartengono ed arrivare alla vostra età, al vostro tempo soddisfatti e felici. Io letteralmente ho un vuoto cosmico che va dai circa 21 anni ai 26, 27. Io non mi ricordo di averli vissuti. Questa cosa mi manda ancora adesso ai pazzi e diciamo che la sto affrontando anche in terapia perché è una cosa che la trovo incredibile. Cioè dico ma io come ho potuto non rendermi conto che avevo 22 anni? Come ho potuto non rendermi conto che ne avevo 23? Come ho potuto non rendermi conto che ne avevo 24? Questo perché io ho iniziato a lavorare molto giovane e la concezione di dover risultare nei confronti della società come una persona matura, responsabile e di successo ha fatto in modo che io cancellassi completamente tutto quello che fa parte invece di quel periodo e che deve essere vissuto. Non vi sto dicendo di non andare a lavorare chiaramente, questo è sbagliato. Anzi fate le vostre esperienze perché mi hanno dato anche delle cose positive che mi hanno aiutato poi nel mio futuro e nel lavoro che magari posso fare oggi. Ma col senno di poi mi rendo veramente conto di aver escluso tutto quello che era, che faceva parte degli anni più belli della mia vita per dimostrare sempre qui a qualcun altro che io fosse in grado di fare una cosa. Non era per me che lo facevo, era per dire ragazzi ce la posso fare, io valgo qualcosa e ve lo dimostrerò. Mi rendo conto che sia difficile perché a volte si inizia a lavorare per necessità, a volte non si ha semplicemente il tempo di dedicarsi a quello che si vuole fare veramente, si è costretti a intraprendere una strada molto spesso anche magari contro voglia o contro ciò che magari avremmo voluto fare semplicemente perché non abbiamo la possibilità, non abbiamo i soldi perché servono anche quelli molto spesso. Non abbiamo tutta questa libertà da poterci prendere, avete ragione. Sotto questo punto di vista io mi ritengo una persona fortunata ma nonostante io avessi la possibilità di prendermi il giusto tempo non l'ho fatto comunque. Quindi ad oggi vi dico che non credo che dipenda dal fatto che uno possa avere tempo o no, possa avere i soldi o no, possa avere la scelta o meno. Credo che dipenda da noi, dalla nostra volontà e dal nostro desiderio di arrivare da qualche parte e che quella parte che noi vogliamo raggiungere ci rappresenti in pieno. Un'altra cosa che mi spaventa del tempo è che se io guardo i miei coetanei non mi ci vedo per niente. Se io guardo le persone della mia età non ci trovo nulla in comune con me. Questa cosa da una parte mi spaventa perché da una parte dico ma come è possibile che io non mi ritrovi nelle persone della mia età. Dall'altra mi fa avvicinare a persone più giovani e questo mi fa capire quanto più andiamo avanti, più ci chiudiamo in schemi prestabiliti rifiutandoci di cambiare, di migliorare, di sperimentare nuove cose. Cioè più cresciamo, più diventiamo vecchi e più in realtà ci chiudiamo in noi stessi. Facciamo un processo opposto, facciamo un processo di salita e poi discesa. Tante volte quando io parlo con qualcuno che conosco che ha più o meno la mia età e lo sento, gli sento dire ma tiktok no io non ci vado su tiktok io sono troppo vecchio per andare su tiktok e poi aggiungono io non ci capisco niente. Esatto, è questo il problema. Non è che tu sei troppo vecchio, è che non ci capisci niente. Non è il giustificarsi dicendo no ma io sono vecchio e avere ancora la voglia di imparare qualcosa di nuovo. Quante persone che hanno 40 anni, 45 anni vi dicono no io l'inglese non lo paro, io non lo so ma non riesco mica a impararlo, io non sono fatto per imparare l'inglese. Non è che non sei fatto per imparare l'inglese, non hai più voglia di fare questa cosa. Perché più cresci, più ti rifiuti di aggiungere delle novità che sconvolgano i tuoi equilibri. Questo è quello che mi spaventa del tempo, diventare un giorno una persona che ha paura di rapportarsi con il mondo, arrivare magari a 40 50 anni e non risperchiarmi più nella società che vedo davanti a me. Ora sto cercando di rimanere al passo, sto cercando di vedere con i miei occhi da persona adulta un ragazzo di 16 anni, con quello che ha a disposizione lui ha 16 anni in questo contesto e quello che posso avere a disposizione io e che avevo a disposizione quando io avevo 16 anni. Quando sento qualcuno dire ma ai miei tempi non era così, ai miei tempi non esistevano dei ragazzi così maleducati, ma siete sicuri che non esistevano dei ragazzi così ai vostri tempi? Esistevano altre tipologie di ragazzi, perché gli strumenti di comunicazione, gli strumenti di massa erano diversi. Ma io sono certa, perché parlando con i miei genitori, parlando con persone più grandi, escono continuamente fuori dei fenomeni di maleducazione, di bullismo, di mancanza di rispetto anche nei confronti delle donne che noi vediamo online. Perciò la mia domanda è, è veramente un mondo così peggiore rispetto a quello che abbiamo vissuto noi o è semplicemente un evolversi di una realtà che è sempre esistita in quel periodo storico, in quel periodo, in quegli anni lì. C'è chi dice che è un'idea personale, non esiste il tempo giusto, non esiste il momento giusto, esiste un flusso che noi percorriamo da quando nasciamo a quando moriamo. Ma se voi aveste la possibilità di tornare indietro nel tempo e rivivere un determinato momento, cosa scegliereste? Io ripenso, ripenso e continuo ad avercela con me stessa. Io non ce l'ho con gli altri, ce l'ho con me. Sono la mia più grande hater. Non mi dico mai che sono stata brava, né che sono brava, non me lo dico mai. Trovo sempre delle cose per buttarmi giù o per dire che non sono stata abbastanza, che non ho fatto abbastanza bene, ma sempre in base a quello che io vedevo o quello che io vedo, che è sempre una parte di ciò che noi mostriamo al mondo, perché lo faccio anche io. Anche io faccio vedere una parte, non faccio vedere tutto. Solo che quando uno giudica se stesso ragiona in un modo, quando bisogna dare consigli invece si ragiona in un altro, perché si ragiona in maniera molto più oggettiva e molto più realistica, quindi si cerca di dare una mano concreta. Invece quando noi dobbiamo giudicare noi stessi, diciamo che le cose funzionano un po' in modo diverso. Fatemi sapere se il podcast vi piace, se vi interessa, potete scrivermi dei messaggi su Direct personali, mi trovate sempre come Clara in the Mirror su tutti i social oppure potete commentare qui sotto al video. Io vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!